ciao amici italiano games buongiorno e buon inizio di settimana ultima mini vacanza dell'estate da oggi anzi da ieri fino a mercoledì e quindi non sono a casa non registro da pc ma da mobile ma sono con voi per iniziare questa settimana con le novità di football 2024 che avevamo anticipato venerdì scorso c'è maldini e c'è pure matteus che era stato segnalato da ct football io vi ho detto prendetelo con la giusta moderazione perché a volte ct football ci prende a volte no mentre invece i football hub 99 per cento delle volte le previsioni sono corrette ed infatti anche questa volta le previsioni di football hub sono state corrette eccoli qui maldini matteus e check tutti 99 mica male 99 allora andiamo un po a vedere il tutto bonus di accesso 777 milioni di download ci saranno come al solito i due eventini del lunedì andiamo un po a vedere evento national teams eccolo qui cosa ci ci da questo evento ci da bonus giocatore va bene potete prendere i giocatori queste nazionali non mi sembra che sia poi aggiungendo giocatori con la seguente nazionalità non penso che devi mettere tutti e 23 magari vedete se mi sbaglio 30 mila gp 30 mila gp è un'aggiunta posizione il classico dei classici del lunedì l'evento tour inglese invece vecchio di giovedì scorso e poi andiamo a vedere il pvp penso che ci saranno 50 monete d'oro eccole qui national teams andiamo un po a vedere squadra dei sogni 23 giocatori nella squadra nazionale selezionata qui invece no qui dovete scegliere una delle squadre poi tanto lo sapete vi arrivano i giocatori in prestito quindi non ci sono grossi problemi 50 monete di football un'aggiunta abilità e due aggiunte abilità usciamo da qui usciamo da tutto visto qualcosa il manchester united non vorrei che per sbaglio ci fosse qualcosa nel negozio dei punti football non credo è non credo però controlliamo infatti modric tipper e olise niente di nuovo sotto il sole andiamo a vedere dunque nel contratto ecco qui lista giocatori speciali scolz summer transfer per capire un attimo meglio qui manchester united forse mi è sfuggito qualcosa in questi giorni ci può stare di vacanza semivacanza eccoli qui loro sono tre giocatori che non hanno bisogno di presentazioni c'è un portiere difensivo validissimo bustato per saracinesca effetto più due quindi diciamo proprio per saracinesca alle statistiche proprio le statistiche da portiere sostanzialmente eccolo qui abilità giocatore un gran bel giocatore che parte da 90 parti diciamo arriva a livellato e poi si mette in squadra e quindi aumenta ancora lotter matteos mediano inter è interessante il fatto che sia versione inter tra le linee ecco qui dove le sue posizioni valutazione generale anche lui viene pompato dal bust che duelli effetto più due e qui le sue abilità giocatore infine il più atteso sicuramente player skill fortress fortezza terzino sinistro però scelta un po non so sì penso che abbia giocato terzino sinistro ma non solo comunque campionato italiano milan volevo 35 livelli di crescita in mila a italia 90 italia 90 ecco infatti in effetti come abbiamo detto nelle ultime settimane gli ultimi mesi c'è stato questa questo cambiamento per cui anche i giocatori con la nazionale sono anche giocatori per club meno male almeno e quindi lui è quello di italia 90 ovviamente squadra ovviamente non potrebbe essere che il milan ecco qui le sue posizioni difensore centrale terzino sinistro e anche centrocampista laterale sinistro direi dal verde lui ha preso un più due per difesa eccolo qui queste sono le sue abilità giocatori va bene ragazzi video rapidissimo spero che comunque è tutto quello che c'era da dire oggi ve l'ho espresso io vi do appuntamento ai prossimi giorni se ci saranno novità tra domani e dopo domani anche se sono in una zona bellissima della toscana vi comunque vi faccio video se ci sono novità importanti male che vada male male giovedì sono di nuovo a casa giovedì uscirà il video sicuramente per gli aggiornamenti del giovedì che sono sempre un po più corposi del lunedì ho detto male male che vada secondo me è difficile che passeremo due giorni senza video però ve l'ho avvisato per il momento è tutto buona giornata buon inizio di settimana ciao